Cosa si farà a compagnia universitaria? Questo è un progetto per noi virtuoso perché è nuovo e andremo a intercettare i ragazzi universitari i quali avranno la possibilità di vedere dall'inizio alla fine cosa significa teatro. Qual è la differenza da un corso di teatro? Principalmente il fatto che i ragazzi non soltanto imparano le tecniche di recitazione ma hanno proprio a che fare con professionisti di vari settori del mondo teatrale quindi oltre alla recitazione c'è la scenografia c'è la scrittura creativa di un testo teatrale quindi proprio lo scoprire il teatro in tutte le sue sfaccettature. Esiste un teatro moderno nuovo? Sì sicuramente esiste un teatro moderno contemporaneo con questo non si vuole dire che si vogliono cancellare le grandi opere come possono essere quelle di Shakespeare ma ci si può esercitare avendo un'ottica su quello che ci sta succedendo intorno e quindi diventa proprio una vera cura per la persona.